ma ciao mondo eccomi qua e sto tipo guardando le cose su sketch, su schizzo ma dettagli allora devo leggere le cose che hanno fatto le persone ok praticamente mi stanno dicendo alla risa borghese piace tutto schizzo ma bello già detto comunque seguitemi anche su sketch mi chiamo allora il log vi sentiti perchè faccio il cambiatore